Con un gol per tempo, la Bagnarese ha battuto l'Africo, che non ha tanto digerito la sconfitta. Secondo il Presidente ci sono stati molti errori arbitrali e molte imprecisioni sotto rete. Comunque, nonostante la sconfitta, l'Africo ha già guadagnato i play-off e dovrebbe essere proprio la Bagnarese e la prossima avversaria. Per quanto riguarda la cronaca della partita, diciamo che le squadre si sono guardate e studiate per i primi minuti di gioco. Sul finire del primo tempo, poi, i ragazzi di Nocera sono passati in vantaggio. Al 44esimo, Cimarosa, di testa, ha anticipato in uscita Frasca, dopo un calcio d'angolo, e la rete ha sbloccato il risultato, facendo finire sull'1-0 la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, l'Africo è tornato in casa determinato. Al settimo, Tagliano non riesce a coordinarsi per battere a rete. Al ventottesimo, Domenico Favasulli non riesce a correggere la sfera in gol, dopo aver fatto strage agli avversari con un dribbling. Molto nervosismo in campo ed espulsione di Criaco è subito dopo l'Italiano. Rimasto in nove uomini, l'Africo non è riuscito più a reagire e ne ha profittato la Bagnarese, che è raddoppiato al 39esimo. Proprio il nuovo entrato Olivieri ha portato sul 2-0 gli ospiti con un tiro dalla lunga distanza.